C'è sempre la polemica, con i problemi che ci stanno a Napoli, con queste cose che pensano a Napoli. Allora noi siamo destinati a chiagnare, a stare sempre male, come se fossimo obbligati a stare male. Dice come, invece si divertono pure, Napoli riesce agli primi in classifica. E invece no, viene che lei ogni tanto ha proprio qualche soddisfazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.